Una delle cose che rende particolarmente divertente e interessante lavorare nell'FMV sono le richieste dei clienti che a volte possono sembrare anche un pochino folli. Spesso ci viene richiesta infatti di ricreare all'interno di un locale dei piccoli mondi che sono molto lontani da qua e riuscire a prendere l'essenza di un luogo e cercarla di condensare a volte in 80 metri quadrati. Abbiamo cercato di lavorare su atmosfere e materiali come gli chef hanno lavorato sul cibo. Da un lato la complessità dello spazio e diversi attori coinvolti che in qualche modo si sintetizza nel disegno come strumento. Dall'altro lato c'è tutta una componente legata quindi all'esperienza della luce, del materiale, dell'atmosfera. Shanghai per noi rappresenta una fonte praticamente inesauribile di ispirazione. È una città estremamente dinamica, una città in cui il panorama dell'FMV ma del design in generale evolve in continuazione. La nostra risposta è stata invece quella di un approccio tutto importato sulla flessibilità per poter contribuire a questo grande mosaico che è la città contemporanea. Isplora.com